Martedì 10 ottobre ritorna graditissimo ospite il professor Walter Pierpaoli, lo scienziato noto in tutto il mondo per aver riscoperto e valorizzato in tutti i suoi meravigliosi aspetti la melatonina e la ghiandola pineale, orologio biologico della vita. In questa occasione il professor Pierpaoli sarà accompagnato dal dottor Savino Marroccoli, specialista in ostetricia e ginecologia e dal dottor Luciano Proietti, pediatra, per affrontare con chiarezza il tema della melatonina e il suo effetto sui bambini. Verranno analizzati i danni di una luce eccessiva, di una dieta smodata e la dipendenza da videogiochi e tablet.